47 posti letto in più per gli anziani non autosufficienti della zona socio-sanitaria aretina. Questa è una delle novità introdotte dalla delibera della giunta regionale la 995 dell'11 ottobre 2016 che dà il via al sistema cosiddetto di libera scelta nelle RSA dopo un percorso assistenziale mirato. L'iniziativa della regione toscana ha due caratteristiche. Una è quella di normare e disciplinare i rapporti giuridici tra i soggetti gestori delle RSA e i soggetti pubblici che hanno invece l'impegno istituzionale della programmazione socio-sanitaria nei territori. L'altro è un impegno della regione a finanziare le zone socio-sanitarie che sono sotto all'indice del 1,14 per posti letto ogni 100 abitanti in modo che all'interno dell'Asle sud-est tutte le zone si posizionino su uno stesso livello uniforme di erogazione dei servizi territoriali. Una copertura pari a 1,14 posti letto per ogni 100 abitanti. Questo permetterà di abbattere la lista di attesa che al 31 dicembre 2016 era di 43 posti letto. Le strutture nell'ambito del rispetto del principio di programmazione delle politiche socio-sanitarie concorderanno con la conferenza dei sindaci la retta sociale che sarà praticata. La quota sociale è pagata dal cittadino ma nel caso non abbia risorse economiche provvederà il comune di residenza. Attualmente è pari a 52,60 euro. Queste sono risorse in più che dalla regione arrivano nella zona di Arezzo, sono il risultato di un lavoro fatto insieme di una zona forte che in quanto tale avrebbe diritto di rimanere così com'è quindi senza ulteriori ampliamenti e il risultato di un lavoro fatto con la dottoressa Valeria e la dottoressa Castellucci. Insomma il fatto che questa zona sia riuscita a farsi vedere si traduce in 914 mila euro in più per i cittadini.